Oggi siete proprio fortunati, un altro video incredibile di quelli top Oggi un altro video dell'apprezzatore, le fighe di Instagram Guest del giorno di Letta Leotto Cosa c'è più bello di Letta Leotto? I commenti che ricevono Ovviamente penso che sanno scherzare Se io fossi il padre di Letta Leotto mi metterò a piangere Però non sono il padre di Letta Leotto Però tutti questi commenti qua fanno ridere Però penso che tutta questa gente è un'apprezzatrice Apprezzano la bellezza e della creazione E già è l'amore Boring, il panettone non manca di Lorenzo Ma se è un commento soft Abbiamo Diletta sputami in fascia Si passa proprio da così Da così a con Un pazzo Questo si sta facendo i migliori film Si sta facendo Stutizio Sta facendo i migliori film Ovviamente la gente ride, marcia È l'ora di presentarti ai miei La notte di Natale Ricordati che il 24 stiamo dai E 25 dai tuoi Kiss Gianmarco Casola Social media Qualcate buone entrambe È proprio buona Sono un incontro di boxe col suo ragazzo In un anno può essere che l'ho batto Facciamo un anno e mezzo Un anno e mezzo E proprio sono bello tranquillo che l'ho batto Bazz tamma So cucitamma Non mi inviare nessuno Che non ne vale Vorrei essere al posto di quel tavolo lì Vorrei essere al posto di quel tavolo Si è benedetto il petrolio Da cui è stato costratto il carburante Che ha fornito i cavi Che hanno trasportato il cemento Per costruire l'ospedale in cui sei nato Top Questo commento È una reazione originale Quanto autobrusto Che cos'è Originalità Può dire che l'ha copito Va bene anche quella C'è chi ha ingrandito E nello specchio È bellissimo Mamma mish Ciao faccio più Mi so svuotati i palmi Mi si so svuotate i palmi Buongiorno parchese La sua carrozza è fuori Che la sveglia Dite perché non fanno ridere Questi conventi Questa Poi Questa è tutta gente che mette la E che è gente Uomini arrapati E che gli uomini in generale Facciamo schifo Vediamo culi E per lì I commenti I commenti si possono fare Si può guardare E non toccare Ovviamente sempre Nel rispetto Sempre nel rispetto Del prossimo È giusto Tutta sta gente Se avesse dietro La lotta davanti Non direbbe Però sicuramente Ci proverebbe a manetta Endo clamorosamente Fai ridere Tutti coperti Infredoliti E tu sempre con la giacca aperta Per mostrarti Sei ridicola Questo è un Io non capisco La gente che perde Il tempo Per scrivere Stare Vuole raggiungere Sicuramente Qualora cosa c'è di male Guardati Alfonso Signorini Più vicino ai tuoi gusti Viene pagata per Che panetto Sabato Quando il sabato Sei La Juventus Fanno le puttare Così in fra La nuvita sessuale Più attiva Non so leggere Però Muscuidano Quella bottiglia È diventata Di due litri Commenti su Instagram È tipo una competizione Che dice La minchiata Che fa più Poi si fanno tutti C'è Tipo Commenti di Instagram Sono tipo Ragazzi al bar Che vedono vedere Vedono passare Una ragazza Buona Sì Io a questo Io la sfondo È bello Ti ha chiuso Il pantalone dietro Ma Vediamo Cosa vorrei essere In questa Scema Vorrei essere Il fotografo Sì ma Diletta Che brutti Il pantalone Bellissima Dile Sono giornalisti C'è chi vorrebbe essere La scrivenia E c'è chi Tutti Full always Passate Passate Se amate il Scemo Qua Che bellezza Il tuo sorriso Dolce Coinvolgente Non hai uguali È un po' È un po' Sicuramente Ti fanno più schifo Di quello Che dice Sputami Boh È più bella Quella Segui il tavolino Minchia il tavolino E poi nessun Che neve Grande Dile Queste sono Le mie reazioni Ma Vabbè Devo dire Che Questo commento È molto Sottile Che mi è Intrattenuta Bella Sui suguardo Di quando Gli esce Alla Scatitivi Cambiamo Che legge Guardano Yes Quella è Un UFC Fighter Non mi ricordo Pettis Che mi sa Che è stato Tipo Buttato fuori Dalla UFC Forse Sinceramente Con foto Tipo Con la gente Mi segue So Il tipo Di pubblico Che ho Non le pubblicherai Foto Della mia famiglia Sì Canic I cani Ci sono I guai Non le guano Non ti scola E sempre Sto commento C'è chi ha zoomato E c'è chi ha zoomato Ma scalzone Il palazzo Dietro E' cresciuto Di due piali Zoom L'abbiamo fatto Tutti occhie Stenze migliori Zoom Zoom Il palazzo Dietro Ringra Mi fanno morire Sti conversi Sono tutti Fissati Con lo zoom E con la roba Che crei Può fare La bottiglia D'acqua Che è ora Il palazzo Che crei Succede Ma se succede Siamo a Topalandia Non piace Di parlare Felice Di essere Tu con te Che tipo È L'ipergomma Possiedere Le protesi Alla Se isoka E lui È un personaggio Di un anime Ha il potere Non lo come si chiamano Vabbè In pratica È il potere Di go Ha fatto un commento Sulla go Però Il fatto che dice Qualcosa Non c'entra niente Con la foto Le donne Voi Lo spettacolo Della natura Meglio Riuscire A cordicella Degli occhiali Si sta spezzando Tanta delizio Non zo Non so Che pubblichi Una foto E mi viene spontaneo Il palazzo Dietro Sape superare Il burgi Cali Sarebbe il palazzo Piotto C'è chi vorrebbe essere La staccionata Che è chi mente Un'altra cosa Delle foto Di Letta Leotta È il fatto Che la gente Parla di roba Che vorrebbe essere Nella foto Ha senso Quello che ho detto Gente Dice Cosa vorrebbe essere In quella foto Senza Puoi darle Una maglia Che non sia Trasparente Per cortesia Vi serve Il maggiordomo Troppo presto E' bello E' poco Quagliato Se è napoletano Che vuol dire Quagliato Siete Inguardabili Questi sono I ragazzi Repressi Che non vedono Figa Non so Quagliato La soluzione Lo sai quale La soluzione Dovete uscire E parlare Con La gente Si vuole Essere salutata Non l'ha detto Per punto di essere Salutati Che cosa Fate le seghe Quando vi siete Insieme Ma manco io Anch'io vorrei Essere sempre Insieme A voi Ho divertito A voi Mi raccommento Qual è stato La bottiglia La bottiglia È diventata Di due litri O il palazzo Vorrei essere Gli occhiali Ah no Gli occhiali Della vita Sessuale Più Pi' Intensa Nella via Comunque Noi si apprezzano Sempre Con rispetto Della donna Rispetto Ad esempio Anche se Non li Objectifita Objectify Come si dice Non Objectifica Anche se Lo fanno A se stesse Lei no Lei Diretta Proprio No Lei sta Favendo Il suo Lavoro Ed è Buona Quindi Lei Proprio No Invece Si mettono Con il culo Di fuori Con la lingua Di fuori Quelle Dicono Si Sono Un oggetto E poi Se tu Dici Sei Un oggetto Dico Oh Non mi Tratterevo Un oggetto Però Lo stanno Facendo Loro Diletta Lei sta Facendo Solo Il suo Lavoro Ed Potrebbe Spalare H di Cavallo E Bop Lode A Diletto P P P P P Grazie a tutti